Musica Come here, professor One minute I have 10 How are you? How are you? How are you? About 3-3 If you don't need anything, I'll just send that one I have a bubble 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 I live in the region How do I do it? Let me just tell you I know I know I'm a little bit My baby I got a bubble I have a bubble How are you? 권ese e quello che faccio io ho sentito ho sentito parche negli anni ho sentito ero in quanto sui ancora cominciò Sì. 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 All those people Ti sono alcuna che le faccio? Ma farà il fatto che è una ragazza sulle Che c'est la mia ragazza? Sì, si tu che ne? Che cosa vedi? Sto, che c'est la mia ragazza? La mia ragazza? La mia ragazza che le faccio è una pertenzione Non, non è una cosa che c'est la mia ragazza del genere Si, credo, non è un ragazza Non, non è la mia ragazza Non, non è una ragazza, non è una ragazza Si, non, non è una ragazza Non proprio Denton di mamma che devo andare là C'entra le nastro Non, comunque è uno Ecco qui c'e E oенно Servici Il�� time Mi cabello Sai che basta Noi vitto Noi avora Trae qua no io ci parvo oh zij non le fransё ciao no è no si Ecco andre a usciti il tuo film della giornata! Tutti un po' di dolce, tutto tutto il te ha visto! Non mi chouchna iniziare, non mi chouchna… Un po' di dolce, un po' di dolce, un po' di dolce! Questo è il migliore del nostro fricolato! Noni, non mi chiede la mia! Vesi lì, io ho fatto la mia! Oggi, qui vieni il dovere di fatto! Non, 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 non. Non, 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 non. Come la mia famiglia, prima cosa fare una tribunale per la mia famiglia? Non, c'è una cosa. Siamo ancora cosi, io vorrei direi che il mio cuore la mia famiglia. Mi direi che è bene. Mentreimize, non sia me ha interesto, mi parlerà trovare amore. Se la inviterà chi toda questa qualsiasi con le video, ma ceva è 15 minuti. Mamati, tu vieres musica? себя mica sempre, rovori! Infesamente un po' non there mi porzo non rique preferred a fare. manc conversation un team no C ma con una squadra mem that caspa non fin me capite con la squadra e ate bit C'est lì? Si tu sai e la mia ciotola, non? Se vuoi che ti piuva il tuo lavoro, non? Non ci sono. E mia. E mia. Cosa cosa? Cosa cosa? Cosa cosa? Cosa cosa? Se spoletteман Sono optati ok Che pracano il copie una squadra ma sopretene Con Er berries Ce pagarà Eh plus Non Prefessioni i luovati Il�� A soprattutto il copie il suo webato In giro In giro Si nasa舉 Negativa Se drage Il caso Allina Gisela non c'è? C'è lui che mi piaceva? Non ma me sembrava di lasciare. Non ma cosa sia? Non, non ma è quella. Ma c'è una delle odore. C'è la miaburiera, c'è qui veni a Madeleine. Ken, Kennedy. Si non va a quelle orto era, il dice che il è un man del match, che è il l'osista, il dice che il è un wasiste. Ma se non fa sia a Mblasta's best friend. Wow! Noi ma una ponte, questo è sempre un tico. La mia amica non è sea un tico. Noi, non lo può fare un tico. C'est questo, anche questo, il nostro uomo è a avuto il tico. Lo so che hai con le Zee. La scopera che gli amici l'euro per le mattine. C'era un tico, sai cosa? Noi, non ha mai fatto il fatto un manto, anche l'euro del centro. Eiii non ma cosa? A non, ma cosa? Anno è lei che avevaIGA, eddiana ma è un mie da molto il miei Sarà, ci sono le mie come nelle cose? Sì? Quando dicono queste cose, mi piace, non ci sono. E poi perché fa una cosa? Che cosa fa? E quindi si dice la mia? She è la mia niente? Non come se ne chiede più. Ci avresti anche il mio figlio, ma sono scoperteva il mio figlio del show. Riempitamente che non s'attirava ma popolazione. Zidane, una niente conozione. Il mio figlio a molto coccato. Il mio figlio della mia famiglia è importante a me porto il suo figlio senza che loterà. Sì. a un drone ma cosa momento non ci sono una poche io non ci sono svegliate qui... non si non il terena lui il tempo che sia la mia questa è un giorno non è un giorno sono un giorno siamo essenziali essenziali Non, non, n'è l'estaspo delle casse... Si, non, n'è l'estasi come mai... Se non lo so, non ci si ci so, non lo so... Si ce n'estaspo male... Qui ti sento outra pensare a che séparare... Qui si senti non so, si c'est a pensato da fare... No, non lo so... Ci si, non c'era una vicenda... C'era un vicenda co. C'è Zidani? Non c'è un po' di nese, non c'è un po' di nese. Zidani? Best coach? Non, non c'est un po' di nese, non c'est un po' di nese. Non c'est un po' di nese. Je vous le dis à la maison, je vais vous le dire. Si on la cassait, on la cassait. Zidani, tu n'as pas la même chose de pire. Tu es la même chose. Je te dis que tu es la même chose, tu es la même chose. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. 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 Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. Amasi. Mi ha papa, mamma, mamma. Ok, mamma. Ok. Hi. Hello. Ma mamma, mamma, come? Come asci, ma mamma. Oh yeah. Ma mamma. Non, non, non? Tu messi che io, tipo bapà! Ah! Non c'è mia bellissima! Button! Ah, chiama che io allico preferirei? Bellissima? Ce che è la venire del palco. Que la言are di spazia? Mi permette di spazia. Tu woi chiamare raggiunto? Ho, io chiedo bellissima bellissima. Bellissima bellissima! Buon bellissima. Vite buonneanesa E buona . Perdoverte Non ti? discharged i chiudi Tu molti domesticari, come l'ameno? si quella non è una belica, Marietta su un sac. Ma la mia casa deve ancora sonata. Tutto sempre qui puoi rimedarlo? Obviare questo. L'abesco mediema è un advice, P Radio? Sm Ochro è un bel bene, se c'è laボ? Mi sei unalu camombo. Ho l'abesco mediema la pi천 in questo tipo di PA è am Claytono. Ah quindi. Ma che voglia di mettere al lobo? Un belissimo. so che vive è iniziò una vera una cosa una cosa la cosa è una cosa e un pizza è il è il è il qui si era il è il il qui si è il è il ora lo ok lo si è qui quello il tu non che ho capito? tu hai penso? io ho capito tu ricevi 8000 dollari tu hai penso? non mi so la rispona non, non è la risposta non, non la risposta non la risposta Non, 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 non. Grazie a tutti. 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 Fazie a tutti. C'è un ha ti perciò, in quanto riguarda sto il nostro canale? Ma non è quello che sia da noi. Ci sonica. Sono dicendo di Gesù... C'è il che. C'è la mia donna io. È un po' senza lezore, con il nostro corpo. Non, sia un po' fatale. Non, non. Non, è locali. Non ci sono un po' senza errone, che non è grossi, ma sarà la mia. Se viva via la postre! C'è l'espaussi! Ma non è successo. Cioè evo, non lo so. No. Se non c'è ciò che è così, va di essere analisiere il shop幸iale? Non c'è un loco. Non c'è un loco. Non c'è un loco. Non è tutto, non c'è. Non c'è cosa c'è. Non c'è sì, non c'è un loco Ok. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Listen, baby. Come on. I'm in a rush. My business partner is very friendly. I'm in a rush. No, please. Come on. Tell me. Why do you want that? Come on. Let me go. Come on. Come on. Come on. You're a good girl. You're a good girl. You're a good girl. No, no. There's no other Marina. You're a bad girl. I never noticed her. I know. Let's see. The eyes. You're back. Yeah. средest had nothing more trouble. Non c'est là, non c'est qua. Si č qui a ca, mi ha chiamato con ti, mi chiamato qui appena. C'est così, ma mamma è andata, i grazie. Con voi avete una c dieta? Non, ho Gia, mamma è andata. Non c'est a poco tempo. Questa è andata digitale da cibola. Mi fino a ciò che fa, non, ma vediamo. Si avessi i centimetri... Mi vuole anche? Non si non. 0,2,3,4 Non si non il fatto con i bianchi. Non si non il fatto. Davide a una pezda. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Mi piace. Ah no. Non mi piace. No, non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Non mi piace. Tu fai ilmene e così? Si. Si tu non so. Se sei. Si tu 4 tu hai il. Si devi. Si ho più il, mi piace. Che se seguDER. Dì, non mi piace. Non mi raccomando, non mi raccomando. Non mi raccomando, non mi raccomando. Non, ma 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 Io lo ho chiedo di Montana. Il mio èvole di Sporto come tutti i figli dell'Age's. Io sono gli anni di Santa, io gli ho mi consiglio di avere una angina di parcetto che io gliП江, però è un tema i figli di lui. Io voi esfermi, io vi tolgo! Ah, ho, è il mio Romeo, è il mio figlio. Ma Mamma, la mia classe ma si viene a me. Voi la mia conoscenza? Voi, vieni a me, era il mio figlio. E per il mio sorprendente! Noi amici driving, aIsisavo igare Olsi circumst subscuente LiuSTi Davies 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 L'acqua Davies 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 L'acqua Davies 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 C'è nulla ? Non è la mia palla pare! C'è nulla ? C'è nulla ? C'è nulla ? C'è nulla ? Inizia Misha. C'è nulla fa, non so è nulla ? Passi senza quattro da lui e gli sei era una cosa che era lì e C'è un problema che aveva, è un padre mi piaceva le mio amore Che avrò una mamma, mi piaceva le mie che mi piaceva le mie, perché devo faceva le mie Non c'è lui? Non ho subito le mie, ma come me iscrivete il mio amore! Ma sì che è stata la mia mamma! Ciao Sì! Non l'onestero! Non l'onestero fa! Fino! Vignia! Vignia! Vignia, vignia! 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 No, no! No, no! No, no, no! Choka Bocano, Chimo, Chimo! Chimo, Chimo! Chimo, Chimo! Chimo, Chimo! Ci ho masato il mondo non ho 우리도 anche non ho fittevo ma non ho fatta Buon appetito! Ma cosa è il progetto? Il progetto! D'unico. E' molto più olezura! Non, i due. D'unico. Ma cosa ti sono? Se me dimenticare i channeli, ti sono! C'è un pollo che voi farò qua? Insieme, ma ci sono le progetti? Perché ho? Alle le persone che mi servono. Oh, che bebe! E infatti, mi sono chiamato quando hai mai fatto, miso? Mi sono assunto o che non spendere E mi per il Coro inizia. Ci donna che sono la sua abendita. Un altro domenico? Non, faccio. Non, faccio. Faccio quando gli sono affrontati! Non, non. non c'è un problema ma mi metà salire mi metà salire 5 milioni non c'è 7000 5 milioni Mortale, mi credo? Sì, non mi credo? Esa roba lei Fai no, tutti ieri Non so cello Fai no, non so Fai, vuoi? Io, vuoi? Fai no, no Fai no, no Fai no Fai no Fai no Mi piace ...è lui... e come se fosse... Non si era il risultato... ...è il risultato quella che hai... ...è il risultato? Eccoci... Vedrà! Vedrà, vedrà! Vedrà la! Non 라는 la prima cosa, non lo so... Non lo so... Non lo so... Se non ci sia ma bighamata Non puoi stare Non poo sei Non vuoi? Non vuoi? Si venço il porta èianza Non vuoi? Si venço il porta èianza Non vuoi? Non vuoi che per l'azionato Non vuoi essere la mia? Non vuoi essere la mia? Non vuoi essere la mia? La mia mia è la mia è alessia Non, 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 non. Non, 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 non. Non, 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 non Chi ti conosca? Chi ti conosce? No, non ho l' helicoptero. Ti ci sono il nuovo? Ho il nuovo la nostra. Tu as avuto un mio amici, non il fatto un problema? Che c'è il problema? Io lo so con me Cosa? Non ti sento niente Ma vieni a fare un problema Mi sento questa Non lo so più Ma vieni a andare Ma Vieni Vieni Non lo so C'è Mi piace La stanza E' un buon E' un buon Non lo so La stanza e name dicendo I tu? marko tu mio mi? ho sentito ok ok prima ci voglio stahitti qui vu il现ello? il 합니다 non vi deve fare a default non mi? non Que'è la gente? C'è questo? Quale è? Chacerellare l'araccia? L'araccia o che allora? Vediamoci l'araccia. Qu'è ci? Disse, cosa? C'è qualcosa? Mi tiene adesso? Ci abbiamo bisogno di più romanzi. C'è l'araccia. Non batterie perché Hanova con le masi. Non mi piace il masco! Galdi Skanita. Eccolo 6 anni. Mi piace? Mi piace? Mi piace? Non mi piace? Mi sembra un piccolo? Non. Bene. Mi piace, non so! Mi piace! Mi piace? Fareci ma! Il soldati ton le avveci地 con il tuo Padre! Perchè non accưởngò tutto ma non per la tua postura, non ci esso. Non, ho guardato la tua postura non passa ma Il me dilano! Non, lei non ha più. Non, lei non ha più. Lei non ha più. Lei non ha più. Lei non cunterà nessuna. E lei non ha più? Lei non ha più? Lei non ha più. Non, lei non ha più. La mia cosa è la sua vita, a meno. E la sua vita, a meno. Sa questo bene, lei non ha più che lui. E lei non ha più, non. Ma ho visto che quello sarebbe riceveduta dalla prima a con la mala ciasque muoverta c'è un bambino il bello il bello il bello m'è c'è l'uomo questo non ti ve, non? non? tu as visto che cosa? quando tu fiumi la silenzione tu sei capire non c'est forty non era non, mi carburo mi carburo mi carburo ti video guardi guardi non, non, non C'est qua. Ma perché non è l'unico? Non ve cosa vuoi. Ma perché non c'è questo, ma cosa stia nell'accompagnola. Mentre hai 16 anni? Non. Ma cosa accadra? Ma cosa accadra? Ma cosa ha dato? Ma perché? Ma di ora mia? Ma con il biaile, Ma ma testa non mi senti. Ma sentiteva perché è l'accompagnola? e se non 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 che ci sono le Dico, non mi ha dato da neanche, non mi ha dato da una teanche come, non mi ha dato da una teanche, non mi ha dato? Non e anche se, sono i dietro suoi? Poi, non, non. I ameno con una tua persona che non c'era il Canada, che sono il mondo, la mia 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 mia, e che sono le Dico, le Dico, l'ecollo mi ha detto di farlo, mi ha detto di farlo senza farlo, mi ha detto di farlo, il deviam sackermi, E' un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è un po' che c'è? E' un po' che c'è un po' che c'è? C'è un po' che c'è? Non pensate per far слù lei. Chi ha pensare? Come è quello. L'obietà di portare a Scottove cencicicili con tantadlese problems quello che facciamo. L'accelso generale. Non si viene una**ra. Hai pronunciato? Netti commitsito. È stato durato un po' di corretArts tuttiPN فritta? Devi quanto decks barrelni? Nessuno generale ! Non si passerà la 이미à. Ti arrivo io? C'è ...ARI, ... ... Ralevo la cucina gia, perlare le risorse, i due pagini la cucina di cia, i due pagina di cia, la cucina di cia. Ciccina, sui botte? Non mi farò, non mi farò più, Nisipà non mi farò più prognosi, nantichate di cia. Cioè a uscire il mio, l'argo di bere. Non mi farò più prognosi, non mi farò più prognosi. Dovamo prepper al vecchio, voi chiedere? Ti stai insieme a noi. No, non mi farò più prognosi, Ah. Mi farò più tanto affermi, Ti sento che stai insieme a accusing questo? Buon po' damma! Criassini! Ma resta niente, stop! Criassini, boi! Cosa c'è? È che tu sto conciando qui? Signo! non è vero è una bella bellissima una bella 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 oh no i would love to meet this gentleman this gentleman come come on come on hey look at me they say my mind material they say all the bullshit the nonsense all the 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 who who everything is t la stessa adesso è facile la bambina la parola la bambina la mia 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 bambina l'abbiamo satis al giorno Tu sei anche tu s доб exp foil? Ma io non mi troppo, sembra il mio Cia mia mia Ci sei che io senza Voi non c'è Non c'è Arm Drop Più confondo inندline? Caputo più in tutti Ma sei già, non sì Ci continuiamo colmo per il suo Isso C'è tanto qui, che è la casa della casa? C'è tanto una cosa? Non c'è tanto la casa. Non c'è tanto la casa? Non c'è tanto la casa? Non c'è tanto la casa. Mi mia, ha detto che mi ha detto. Non c'è di qui? Si volete un po' di più, mi ha detto un po' di più, mi ha detto che mi ha detto. Mi mia? Mi mia? e se non era del sole cosa si è stata il giusto se si mi sono disegnati la gente si un'unica si ci sono disegnati si è disegnati ma hai visto Alla responsible. Alla ruota è il suo tempo. dürfen, non lo so, non lo so. Non lo so. Non so. Non so. Non so. Non so. Non lo so. Mi ne lo so. Non è una figura. Ciao